Ed eccolo qua, questo video dedicato alle novità di YouTube per chi si occupa di consulenza. L'ultimo video che ho fatto dedicato a YouTube qui su Fast Forward vi ho parlato degli Shorts, un video di 9 minuti quasi, sì 9 minuti circa, dove sostanzialmente davo 19 consigli per chi fa consulenza e vuole sfruttare gli Shorts per i propri clienti. Ma ci sono alcune novità che ovviamente possono cambiare il nostro approccio a YouTube nella gestione di un brand terzo. Ne abbiamo un po', ve ne cito in modo un po' più approfondito due e vi cito poi velocemente le altre. La prima è YouTube Podcast. Segnalato da Marco Carovana su Connect.gt, YouTube sta per aprire una home per i podcast. Quindi tra tutti i formati video che avete a disposizione ci sono anche i podcast. Se avete un cliente che usa questo strumento per comunicare, il video podcast potrebbe essere una buona cosa. Voi sapete che io ho anche un altro canale proprio dedicato ai creator. Queste tematiche le potete approfondire tutte, basta che andate su Creator Pro, che è il canale dei canali, l'ho chiamato, e potete andare a vedere gli ultimi video e avere degli approfondimenti. Però il tema principale dei podcast, il valore aggiunto dei podcast, che secondo me, giusto per lasciarvelo, ho risposto un po' così a Marco Cavicchioli, il divulgatore sui temi delle crypto e bitcoin. Spero di aver pronunciato bene il tuo cognome, mi dimentico sempre Marco dove va l'accento, che mi chiedeva ma qual è il valore aggiunto dei podcast? E vorrei fare proprio questo esempio che sto portando avanti, proprio per lui diciamo, che se lui dovesse fare un video sulla storia dei bitcoin, per esempio, non gli consiglierei di fare un video, ma proprio una stagione, 6-8 episodi, dove racconta tutta la storia dei bitcoin. La differenza è che il video è più dedicato all'intrattenimento, mentre il podcast si può concentrare su altre cose, sui dettagli, sullo storytelling, che è poi quello che fa effettivamente la differenza in un formato di quel tipo. La seconda grande novità, che è importante sapere perché cambia tante cose, è che è arrivato il Google Trends di YouTube. Non è così approfondito come Google Trends, non ha tutte quelle funzionalità, ma ne ha una in più, ovvero non ha solo che tu puoi mettere una parola chiave, vedere quanto è cercata su YouTube con un indice medio, alto, basso, ma la cosa fondamentale è che ha cosa cerca la tua audience. Ed è qui che viene il bello. Non solo cosa ha la tua audience, cosa cerca la tua audience, ma in quella metrica, in quei dati, ci sono tutte le ricerche delle persone che fanno parte della tua audience e dei canali simili al tuo. Inoltre c'è un'etichetta molto interessante, che è Content Gap. Sta ad indicare che per quella ricerca le persone non sono molto soddisfatte dei contenuti. Ve lo racconto al volo. Una volta che si clicca su Analytics, spunta ricerca. Qui avete la possibilità di inserire un termine praticamente e quindi mettere SEO e vedere qual è il volume. Si può mettere anche un termine nei preferiti. Purtroppo attualmente abbiamo pochi paesi e solo la lingua inglese. Ma ecco il pannello interessante, le ricerche dei tuoi spettatori. Qui possiamo vedere le ricerche più interessanti per le persone che ci seguono e per tutti quelli che hanno un canale simile al nostro. Una volta salvate ce le ritroviamo in ricerche salvate. Come possiamo vedere, per chi lo sta guardando in formato video, qui c'è l'etichetta lacuna nei contenuti. Comunque anche in podcast non preoccupatevi, è proprio un'etichetta sotto la parola chiave. How to rank YouTube videos segnala una lacuna nei contenuti e un volume di ricerca alto. Per chi fa consulenza, questo è uno strumento veramente molto interessante. Ecco, queste erano le due novità grosse. Vi segnalo altre piccole cose. Innanzitutto, nelle impostazioni dedicato al team è arrivato un permesso molto particolare. Avete la possibilità di far accedere a alcune persone e dare il permesso come editor di sottotitoli. Inoltre, è stato esteso il super grazie. Magari vi può capitare di fare consulenza per qualcuno che gli interessa. E per tutte le live, lo hanno messo in beta in Giappone e in Francia, ma qualcuno in Italia lo ha anche, è arrivata la funzionalità, regala un abbonamento, o sta arrivando comunque per tante persone, sia per le live che per le premiere. Ovvero, la persona ha la possibilità di acquistare 1, 5, 10 abbonamenti e regalare per un mese ad un'altra persona che non può selezionare, lo sceglierà YouTube in base proprio alla fidelizzazione a quanto la persona partecipa, regala l'accesso ad abbonamento al canale. Quindi, se nei vostri progetti rientra qualcosa che gestite per un brand terzo, che ha gli abbonamenti attivi, ecco, aumentare tutte le cose esclusive per quella community è interessante perché aumenterà non solo il numero di abbonamenti, ma anche le persone che potranno regalare un abbonamento. E con questo è tutto. Noi ci vediamo settimana prossima. Spero di avere il video sul Google I.O. o altre cose di questo tipo. Al prossimo video.